Buon pomeriggio dalla redazione del Tg della Mobilità. Cantieri in città proseguono i lavori di riqualificazione in via del Tritone, chiusa la preferenziale da Piazza Barberini a largo del Tritone. Le linee 52 e 53 limitano le corse alla rotatoria di Piazza Barberini. Altre 11 linee sono invece deviate. Percorrono via Barberini, largo di Santa Susanna, Piazza della Repubblica, Via Nazionale e il traforo Umberto I per tornare su via del Tritone. Le altre notizie domani si tinna via Molise dalle 10 alle 13 vicino al Ministero dello Sviluppo Economico. Possibili rallentamenti per la viabilità e chiusure tra via di San Basilio e la stessa via Molise. E in chiusura ricordiamo che da domani sarà di nuovo in funzione la telecamera per il controllo della corsia preferenziale di via nazionale 24 ore su 24. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti nelle prossime edizioni del Tg.